amici di basket italy bentornati in questo nostro nuovo video oggi parleremo di lba come sempre e lo faremo anche con una piccola parentesi sull'eurolega ovviamente parentesi milano visto l'ospite che andrò ad annunciare tra pochissimo vi ricordo inoltre di seguirci sul nostro sito basket italy.it di ascoltare il nostro podcast aggiornato settimanalmente con puntate sia riguardo l'eurolega e riguardo la nba dopodiché non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al nostro canale vi trovate qui in basso il tasto iscriviti di metterci un bel like qualora vi siamo piaciuti un commento condividere il video e di attivare la campanella per i prossimi video che faremo in non perdervi neanche un secondo dei nostri dei nostri video bene diciamo dopo questa piccola apertura apertura per la nostra nuova puntata presento l'ospite in edito di oggi un grandissimo appassionato di basket e un grandissimo conoscitore della palla spicchi oggi è con me Dario Destri ciao a tutti grazie troppo gentile presentazione proprio perfetta poi poi ti passo i soldi sul Liban esatto esatto perfetto siamo pronti siamo pronti a partire quindi con la nostra chiacchierata solita che ormai siete abituati a sentire e partiamo come al solito con le scarpette rosso ovvero la squadra del cuore di Dario eh l'Empore Armani Milano ovvero mh squadra che ancora ehm fa non ha ancora perso una partita di di fatto e ha percorso retto in in LBA dopo aver battuto Treviso eh messa alle corde tramite una grande prestazione degli uomini di coach Messina abbiamo assistito anche allo scontro tra la terza e la seconda squadra forze del campionato Brindisi e la Virtus Bologna e e la vanno a spuntare in cui appunto le vunere tramite grandi prestazioni di Harvey Teodosici e Cordinier e giungo alla prima domanda della nostra che caratteristica serale ehm Dario secondo te questo duello che ho appena citato ovvero Milano e Virtus sarà la falsa riga di intero campionato o avremo sorprese? Eh io temo che che il duello sarà questo fino alla fine perché rispetto agli anni scorsi ho visto un divario più netto tra le prime due e le inseguitrici eh magari l'anno scorso fino a uno due anni fa anche qualche anni fa anche qualche anno di più c'era soprattutto Venezia che alla fine due scudetti da vinti che che dava sempre filo da torce oppure c'era sempre la sorpresa in Coppa Italia c'era Sassari che era una squadra che eh dava del filo da torce soprattutto la Sassari di Pozzecco c'era Brindisi che in realtà Brindisi è sempre lì più o meno come come gli anni scorsi però non ti dà la sensazione di poter superare magari nella partita secca per carità può succedere tutto però ehm la sensazione che quelli due siano almeno una spanna soprattutto soprattutto dalla sensazione cresce perché lo vedi adesso il distacco quando entrambe le squadre sono ancora in palese gestione tra turnover infortuni eh gestione del doppio impegno eh nessuna delle due ha mostrato ancora il cento per cento soprattutto la Virtus che ha avuto grossi problemi di infortuni io credo che sarà così fino alla fine non so se poi l'esito eh sarà come quello dell'anno scorso che spiazzò piuttosto tutti eh dipenderà anche da come prosegue la il cammino europeo da entrambe le squadre che probabilmente è il primo obiettivo soprattutto lato Virtus perché l'Eurocup significa andare in Eurolega e da lì passa tanto del futuro di un'intera società mentre l'Olimpia che punta ovviamente a tornare ai playoff e magari di nuovo le Final Four eh deve un attimo gestire le forze al roster sono arrivate tre sconfitte adesso in Eurolega quindi non è non è impensabile pensare a un'ampia rotazione del roster infatti sul mercato si è intervenuti proprio in quest'ottica alla fine. Esatto quindi direi una un'analisi perfetta di questo scontro che molto probabilmente ci accompagnerà eh fino a fine campionato tra l'altro se non sbaglio gioca a Santo Stefano giusto? Sì Milano Virtus sarà giocata in casa di Milano sarà a Santo Stefano le 17 tra l'altro diretta su Rai 2 mi auguro con un'adeguata promozione dell'evento perché alla fine c'era stata anche l'anno scorso ma nessuno se lo ricorda forse questo è una cosa brutta. Esatto quindi diciamo come l'anno scorso a Natale avremo questo derby chiamiamolo così i derby per chi si chiama. Chiamiamolo derby d'Italia? Derby d'Italia poi Juventus e alla fine sono le due squadre con il maggior numero di scudetti anche se Varese non è molto lontana però. Eh esatto esatto diciamo. Eh lo sapevo. Varese è lì eh comunque. Diciamolo diciamo abbiamo dieci scudetti speriamo undici. La stella c'è. La stella c'è esatto. Bene allora passiamo al prossimo argomento di serata ovvero analizziamo il risultato più sorprendente sia sia positivamente che negativamente della giornata che abbiamo assistito qualche settimana fa ovvero parliamo della Dinamo Sasseri che ora si ritrova ovviamente a pari punti ma per la differenza reti è terz'ultima in classifica dopo aver esonerato il proprio coach Davis Cavina e sostituirlo con Piro Bucchi ed è anche intervenuta sul mercato perché ha tagliato battle ed ha acquistato Robinson ex peso dell'anno scorso e ha ripreso il uno dei giocatori della nata di Pozzecco ovvero Kruslin. Secondo te Dario sento che la insomma il terzo ultimo posto della Dinamo fa fa parecchio rumore cosa sta mancando a questa Dinamo in questo suo momento storico dell'era post Pozzecco? E credo che allora la situazione è un po' complicata per tanti tanti fattori di sicuro l'addio di Pozzecco eh ha messo un punto finale a una gestione che faceva forza soprattutto dal lato motivo dal lato del gruppo eh l'anno scorso c'era un candidato MVP come Miro Bilan che non c'è più e soprattutto non è stato sostituito con un profilo all'altezza anche perché non è facile trovare un profilo di quell'altezza e sembra che il nuovo corso non non stia dando i frutti pensati già il fatto che sia stato esonerato Cavina eh fa pensare che un qualcosa di nato sbagliato non me ne voglia Cavina ma non si è dimostrato eh forse all'altezza ma anche perché un certo tipo di coach soprattutto un coach esordiente in Serie A intendo eh deve avere un contesto sereno per per rendere probabilmente metti la la roster probabilmente non costruito bene eh lo spettro dell'addio di Sardara a fine stagione poi forse smentito insomma anche il futuro societario non sembra proprio cristallino ha portato un po' di di insicurezza probabilmente in una situazione che già di suo non era non era Florida diciamo così poi il roster di sé non è neanche così pessimo e che mi sembra un po' amalgamato male eh mi fa specie che il principale faro offensivo eh spesso sia David Logan che è un grandissimo giocatore però il non è il Logan di Sassari che vinse lo scudetto il fatto che sia ancora lui il faro eh io me lo immagino più con con primario di lusso più che come una prima punta chiamiamola così e questo insomma mi lascia un po' perplesso a livello di costruzione poi per carità Barnell e Benzio sono degli ottimi giocatori ehm però da soli probabilmente non spostano abbastanza c'è un un parco italiani che mi convince il giusto perché Stefano Gentile sta vivendo un momento di di calo anche dopo un po' di problemi fisici nei italiani troviamo anche Chessa che però non è più un giocatore di questo livello infatti non gioca De Vecchi stessa questione era stato ingaggiato anche Jacopo Borra un giocatore che in A2 faceva anche la voce grossa però che evidentemente non non vale probabilmente la serie A pur trovandolo estremamente simpatico però non mi sembra che non non ci siamo a livello di quadratura del roster manca qualcosa adesso sono intervenuti sul mercato per per trovare a puntellare una situazione perché chiaramente l'obiettivo in questo momento diventa la salvezza mi sembra abbastanza mi sembra abbastanza scontato e non so se Bucchi sarà l'uomo giusto sicuramente un allenatore esperto espertissimo che però ha vissuto una retrocessione l'anno scorso in una situazione che ha dei delle situazioni un po' sinistramente simili perché anche Cantu viveva una crisi di questo tipo io adesso non auguro niente a Sassari ci mancherebbe però la situazione non è non è cristallina è una di quelle situazioni dove però basta azzecchiare lì probabilmente l'innesto giusto e riesce a trovare una svolta quantomeno qualcosa che porti tranquillità esatto io comunque anche un meco vuolo ritornando al discorso di prima è solo schifo eh no bel giocatore però anche lui ha che sta avvenendo un processo di crescita perché comunque l'anno scorso ha giocato un'ottima annata e ha un processo di crescita che vuoi per il roster che non gira come dovrebbe si è arenato lui probabilmente non è in grado di prendersi una squadra sulle spalle ha bisogno di essere cavalcato da una squadra quindi essere seguito in un certo modo probabilmente sta mancando questa cosa esatto esatto speriamo quindi che la la squadra Sard si possa riprendere e scacciare insomma le ombre di di della zona retrocessione perché quest'anno e poi farei farei stare tranquillo i tranquilli tifosi nel senso che sì li vedete in fondo le squadre sono sempre due tipo due partite dalla zona playoff insomma la storia ci insegna che è molto facile passare da una parte all'altra esatto poi siamo abituati ad aver visto retrocessioni più sul lato contabile che che lato campo però quest'anno sembra che ce ne saranno effettivamente due sul campo e questo va va ricordato eh sì perché tutti si sono abituati ad arrivare per ultimo a posto perché c'è sempre qualcosa che saltava quest'anno penso proprio che non sia quest'anno non credo sia così perché pur con tutte le difficoltà anche pesero delle difficoltà a livello societario però mi sembra esserci una certa stabilità non c'è la Virtus Roma di turno ecco esatto esatto quindi diciamo che quest'anno bisogna bisogna conquistarsi la salvezza sul campo e bisogna stare attenti che ricordiamo quest'anno retrocedono in due solitamente esatto bene allora trattiamo il terzo argomento di serata ovvero abbiamo parlato appunto di Sassari che nel weekend ha sfidato Napoli e quindi ora parliamo di Napoli e che ha fattuto Sassari in casa di Sassari al parassera di Migni eh quindi come detto eh grande vittoria della GV Napoli che sconfigge di misura eh la Dinamo Sassari e ora addirittura dico addirittura perché forse nessuno avrebbe scommesso così tanto sulla GV Napoli come sulla sulla Aquila Trento Napoli ad oggi è quinta e Trento è terza e arriva da quattro vittorie consecutive in campionato Trento secondo te ne stavamo parlando anche poco fa abbiamo detto appunto della classifica comunque corta nel senso che oggi due punti sei in zona protezione altri due punti sei in zona playoff non si capisce tanto eh stiamo assistendo più a un campionato un campionato un campionato equilibrato oppure le grandi insomma Venezia Sassari e chi vuoi stanno tardando invece a trovare quella condizione da un po' schiacciassarsi un po' da dominare la classifica. Ma allora farei un po' la tara nel senso che comunque stiamo parlando di una classifica a fine novembre quindi conta conta relativamente eh secondo me il campionato tolte le prime due è abbastanza equilibrato con qualcosa con qualche squadra che ha chiaramente un qualcosa di più penso soprattutto a Venezia e qualcuno che invece si è mostrata semplicemente più brava a sfruttare eh le mancanze degli avversari e non è un caso che le due neopromosse stiano portando a casa dei risultati sorprendenti perché in realtà se guardiamo gli ultimi anni ehm della della Lega Basket diciamo degli ultimi dieci anni è successo tantissime volte che la neopromossa poi arrivi i playoff eh o che comunque sia sorprendente da arrivare a ridosso i playoff perché forse arrivano più pronte perché la due è un campionato selvaggio cioè di quelli che devi sudarti eh la promozione settecento volte forse ti porta a essere un pochino più pronto eh non è un caso secondo me che Tortona che ha anche delle risorse importanti stia facendo bene Napoli invece sta che che è quella su cui magari avevano tutti un po' perplessità perché la storia di Napoli negli ultimi quindici anni non è stata proprio divertente soprattutto per chi tifa Napoli perché insomma è stata abbastanza traballante però sembra aver trovato un equilibrio sembra aver creato un gruppo che già c'era in A2 che si è conservato sotto una guida tecnica esperta come quella di Sacripanti sono giocatori anche italiani che in campionato possono spostare penso soprattutto a un giocatore come Zerini che non è nuovo a prestazioni solide in Serie A già prima di trasferirsi a Napoli poi sai queste squadre se riescono a trovare l'americano giusto in questo caso Jason Rich sta rendendo abbastanza bene adesso hanno provato a inserire Jeremy Pargo che non pensavo tornasse a giocare in Italia innestamente l'ho visto non proprio in forma fisica eccellente però è sempre un giocatore esperto anche se ha debuttato con una prestazione diciamo di più bassi che alti ma ci sta dopo dopo tanto tempo mi sembra un gruppo piuttosto solido che possa dare fastidio e possa approfittare delle mancanze degli avversari mi viene in mente la vittoria di Napoli sulla Virtus sulla Virtus Bologna ha visto la Virtus Bologna in un momento di difficoltà vuoi per l'inizio dell'Euro Cup vuoi per gli infortuni non ha avuto pietà diciamo così ha sfruttato la situazione si è portato a casa due punti che a fine stagione diciamo di pesare davvero tanto questa forse è la forza di Napoli in questo momento essere cinica al momento giusto anche nell'ultima partita contro Sassari alla fine ha vinto di un punto qualcosa vorrà dire esatto io ho perso di 41 contro la Virtus pensa te quindi sì però alla fine cambia così tanto perdo di 41 perdere di 1 pensa di quanto pesano quei due punti che ha conquistato invece Napoli contro la Virtus pesano pesano eh a fine stagione quelli pesano tanto esatto poi poi vedremo vedremo dove andranno a finire insomma gli uomini sacripanti insomma a fine campionato e se si qualificeranno io ne parlavo la due settimane fa con Jack se si qualificeranno per la Coppa Italia perché penso per un anno è promossa sia un grandissimo traguardo e dici Coppa Italia Napoli si emozionano perché si ricordano quella di Piero Bucchi per cui si emozionano sarebbe sarebbe molto divertente tra l'altro era era l'anniversario l'anno scorso mi sembra di quella Coppa Italia esattamente abbiamo anche fatto navighiamo anche nei ricordi tramite il nostro e ho tanti amici ho degli amici vabbè a parte Enrico che lo conosciamo tutti ho degli amici tifosi di di Napoli che quando nomini la Coppa Italia di Bucchi eh Meso Rocca e l'Ingrir si emozionano ancora esatto poi magari ne parleremo di più col nostro ingatto da Napoli Jack eh se ci potrà dire magari qualche chicca me lo segno me lo segno per le prossime puntate eh questa è storica sì sì bene allora entriamo nel focus della nostra puntata essendo che ho l'onore di avere te eh milanese e eh tifoso della dell'Armani eh però non vorrei soffermarmi troppo sulla sul percorso di Milano ormai abbiamo detto di cotto di crude ovvero che Milano è eh ha fatto finora percorso netto nove su nove in campionato insomma nessuno è riuscito a batterla noi noi quasi però tre punti noi infatti me lo ricordo bene me lo ricordo noi siamo arrivati lì la partita noi siamo arrivati lì motivo per cui non va sottovalutata a Varese nel prossimo ecco esattamente siamo arrivati quasi lì tramite abbiamo quasi vinto tramite il tuo Alessandro Gentile che so che è un tuo grande grande cuore per la leggenda grande cuore per Alessandro Gentile però nelle ultime tre giornate di Euronega eh l'Armani ha macinato tre sconfitte adesso non voglio soffermarmi troppo sulle Eurolega perché noi il nostro focus è LBA ma secondo te a cosa sono dovute queste tre sconfitte cioè perché magari tre sconfitte di fila uno già al campanello comincia a suonare da cosa sono dovute? Allora partiamo dal presupposto che la la stagione di Eurolega è massacrante ci sono alti e bassi per chiunque quindi la sconfitta può succedere tre sconfitte cominciano a essere diciamo quantomeno una visaglia c'è qualcosa che si è inceppato eh intanto si è rotto Dino Smitoglu con un grave infortunio e questa è sicuramente una tegola piuttosto pesante non a caso dal mercato pare che arriverà Ben Bentil dalla Turchia probabilmente verrà annunciato tra oggi e domani eh a rinforzare un reparto lunghi che ha delle difficoltà senza Dino Smitoglu perché i problemi di Milano alla fine girano secondo me attorno a tre giocatori eh Tarzeschi che non sta rendendo per l'ennesima volta purtroppo io a me piace tantissimo come ragazzo un ragazzo d'oro di quelli americani così non si vedono spesso però eh non sta rendendo e non è la prima volta e questo è un problema soprattutto se si ferma un altro lungo in più Jerry Angrente e Troy Daniels non stanno trovando la loro collocazione e questo si è visto anche in campionato quando gli è stato dato molto spazio perché giustamente devi gestire le forze dei vari Kylines e dei vari Rodriguez e non stanno rendendo vuoi per difficoltà a integrarsi o per difficoltà all'ambiente basket europeo e questo ti espone perché alla fine ti trovi con tre giocatori stranieri in meno magari in campionato non te ne accorgi perché c'è un livello diverso ma in Eurolega li paghi e li paghi anche tanto diventano quattro perché togli Dino Smitoglu sei con quattro giocatori stranieri che all'altezza diciamo così e quindi ti trovi corto e sei sempre lì a farti un po' affidamento su Rodriguez su Hines su Datome su Melli eccellentissimi giocatori però alla fine qualcosa ti presenta il conto in più mi ero dimenticato si è affermato anche Malcom Di Leni per infortunio quanti sono rimasti pochi però la stagione di Eurolega è fatta è fatta di queste cose perché gli infortuni ci sono per tutti non deve essere una scusante la pausa del campionato secondo me arriva al momento giusto perché ti permette di fare una settimana di lavoro di riflessione perché dopo la sconfitta in casa con l'Olimpia Cosca è tutt'altro che una brutta squadra ci sarà la trasferta con l'Alba di Berlino questo venerdì quindi hai tutta la settimana per prepararlo soprattutto per magari ricaricare le batterie vedere chi i nuovi arrivati non so se Ventil sarà pronto subito a debuttare se perché manca ancora l'annuncio ufficiale in questo momento è arrivato Baldassone mentre per rimpolpare il settore italiani dopo la faccenda di Ricky Moraschini che lo sta tenendo lontano dal campo quindi avevi anche un italiano in meno quindi corto nell'essere corto e questo ha presentato il conto però sicuramente ci sono degli aggiustamenti tattici da fare ecco esatto intanto ti sei portato a casa un grande italiano insomma come Tommaso Baldasso un bel giocatore giovane ci si è un po' dimenticati da lui perché era finita la fortitudo dove sta giocando piuttosto male ma tutta la fortitudo sta giocando piuttosto male ed è un giocatore che probabilmente l'ha ha subito questa situazione ora io non so quanto spazio avrà Milano perché la storia ci dice che gli italiani Milano lo spazio devono sudare davvero tanto forse anche troppo delle volte però non lo so il fatto che Moraschini sia fermo chiamava assolutamente un innesto in quel ruolo perché comunque Moraschini faceva anche da portatore di palla soprattutto in ambito italiano preso atto che Gerian Grant non riesce a coprire questo ruolo all'altezza infatti sta giocando sempre più off the ball diciamo così Baldasso potrebbe inserirsi anche perché diamo un po' di riposo al Ciaccio diamo un po' di riposo a Dileni che è appena rientrato quindi hai anche paura che si faccia male di nuovo non so potrebbe anche avere più spazio del previsto di certo se non difende Messina lo lascia fuori questo mi sembra la regola scritta non fa prigionieri ecco insomma Baldasso uno dei pochi giocatori che la scorsa stagione è riuscito scorsa stagione o due anni fa adesso non mi ricordo era la stagione la tripla doppia la tripla doppia esatto che poi però gli è stata tolta perché non le avevamo oraccio non si fanno queste cose però lui sul campo lui la Virtus faceva fece una gran bella mezza stagione perché mezza perché poi la Virtus è sparita per cui fece una gran bella mezza stagione parliamo comunque di un ragazzo del novantotto per cui insomma ha fatto una bella scommessa su se stesso perché c'è quando arrivi a Milano hai anche il rischio di finire nel dimenticatoio ha firmato per due anni adesso non so se ci sono opzioni questi dettagli non li conosciamo e difficilmente li riconosceremo in tempi ebrei però ha firmato per due anni non è una scommessa da poco né per lui né per la società esatto quindi abbiamo parlato di Baldasso che è un italiano c'è la settimana in cui c'era nazionale quindi parliamo di nazionale mi sembra giusto e l'Italia di di coach Mio Sacchetti ha iniziato proprio il proprio percorso venerdì se non erro sì esatto venerdì nelle qualificazioni per il prossimo mondiale e però è partita con una sconfitta il percorso degli azzurri verso le qualificazioni contro la Russia Dario tu che hai sicuramente visto la partita che partita è stata quella degli omeni di Mio e non è stata una bella partita mi spiace dirlo però siamo stati abbastanza sul classati sia sul piano del gioco che sul piano fisico prendiamo atto che queste finestre delle nazionali sono sempre un po sperimentali perché perché il formato molto controverso ti induce a questa situazione mi piace il fatto che siano stati portati dei giocatori giovani dei giocatori da lanciare alcuni anche già testati nelle scorse stagioni non va dimenticato però che le qualificazioni europee giocate negli scorsi stagioni erano sostanzialmente le amichevoli perché l'Italia è già qualificata in quanto paese ospitante andarono bene però le giocate con amichevoli queste parole devi vincere e soprattutto perché poi per il sistema le devi il sistema di qualificazioni le partite la prima fase te le porti dietro nella seconda come come fu al mondiale per dire quindi insomma cominciano ad avere anche un peso specifico di un certo tipo queste partite non si è giocato bene a me ha dato la sensazione di una squadra che ancora non si conosceva e questo ci può stare ma proprio a basso livello di conoscenza e anche a basso livello di esperienza ma gli uomini di esperienza sono stati tessitori Tonut e Paiola un uomo di esperienza del 99 però vabbè un uomo di esperienza Paiola intanto non era al top e si vedeva un taloniglio aveva un problema al dito che si porta dietro però non ha giocato da lui perché io ho visto fare degli sbagliati in difesa che non ti immagini da Paiola Tonut ha fatto il suo tessitori soprattutto ha cercato di fare la voce grossa in quanto unico lungo di peso sostanzialmente il resto era un insieme di giocatori di ottima prospettiva ho visto uno spagnolo che ha sentito decisamente questa partita perché ha cercato di forse di strafare non è riuscito a entrare in ritmo e la partita ne ha ne ha risentito si è provato a cavalcare a che le di uff giocatori che però devono ancora sgrezzarsi o comunque stanno facendo fatica a trovare un loro inquadramento non ho capito bene il non utilizzo di Giordano Bortolani che è sicuramente un giocatore che ha dei pregi e dei difetti per carità però uno scorer e su questo non ci piove forse uno scorer ci sarebbe stato utile ho visto che nei dodici che giocheranno stasera stasera per noi che registriamo adesso ci sarà di nuovo Michi Vitali che è altro elemento di esperienza che può sicuramente fare bene c'è un po' di turnover ha lasciato fuori Spagnolo ha lasciato fuori Bortolani che non ha giocato a questo punto poteva anche chiamarlo se proprio non interessava mentre punta di nuovo su Candy che ha ben figurato insomma bisogna portarle a casa però queste partite adesso questa in casa secondo me urge un attimo ribaltare la brutta prestazione fare quadrato trovare un po' le forze e prendersi chi deve prendersi la scuola sulle scuole deve prendersela e portarsi a casa un risultato positivo poi non so se si vince o si perde ma almeno devi dare una svolta emotiva e tecnica dopo una prova decisamente sotto tono esatto tu hai nominato la partita di questa sera stiamo registrando oggi che è il lunedì questa sera giocherà l'Italia contro l'Olanda e anche se forse hai parzialmente già risposto quindi che partita ti aspetta ti aspetti la reazione o pensi un altro arriverà un'altra sconfitta io la reazione me la aspetto perché altro quasi mi viene da dire la pretendo la reazione però attenzione ogni risultato la reazione sul risultato può venire da sé se giochi in un certo modo di sicuro non vorrei rivedere una un'Italia scialba perché è stato questo contro la Russia ok abbiamo subito sul piano fisico adesso non ho ben presente il roster dell'Olanda sono sincero eh i russi erano piuttosto grossi noi li abbiamo un po' subiti spero che questo trend venga invertito mi piace l'idea di inserire Michi Vitali per aprire l'area soprattutto col suo tiro quindi ci sta mi sarebbe piaciuto averlo anche prima ma aveva un problema fisico sono per cui ci sta avrei inserito avrei tenuto Bortolani avrei tenuto un altro in grado di segnare con continuità poi magari sto dicendo Fregnace troverà equilibrio rinunciando a Spagnolo e giocando molto con Candy ci può stare vorrei vedere qualcosa di più sotto canestro però mi rendo conto che il materiale è poco perché è tolto tessitori sotto sotto c'è pochissimo purtroppo anche il buon tessitori è un giocatore umile che lavora tanto però non parliamo di un lungo dominante è un lungo di un altro tipo eh ci mancano fisiologicamente questi lunghi da parecchi anni non se ne vedono molti all'origine se non Paolo Banchero che preghiamo tutti i giorni che venga a giocare per la nostra nazionale speriamo di vederlo ma in queste qualificazioni non lo vedremo come è normale che sia eh tante speranze sono riposte lì tante speranze a Manium che magari tornerà a stare un po' in salute eh speriamo che mi basterebbe girare un paio di viti in difesa un paio di viti in attacco Paiola che non si fa sfuggire l'uomo Tonut che riesce ad entrare in area più convinto anche perché magari Vitali ha Tonut ma aveva gli spazi chiusi proprio andava a sbattere perché non si riusciva ad aprire ad aprire la scatola magari con Michi Vitali che apre un po' il campo potrebbe trovare qualche spazio in più vorrei vedere una reazione poi sul resto ci ragioniamo dopo la partita però la reazione deve essere la reazione vista la partita precedente poi possiamo anche perdere comunque oggi bisogna dare c'è modo e modo di perdere esatto sì 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 un messaggio del tipo noi ci siamo siamo vivi anche se magari sì perché partire 0-2 non è proprio bellissimo eh insomma va bene ricordiamo nel basket non esiste il pareggio per cui ho visto bene tutte le scusanti del mondo eh per carità però partire 0-2 non è mai bello e non vorrei che poi si finisse nel solito tunnel delle polemiche che non piace a nessuno esatto bene bene dario questa la domanda sulla nazionale l'ultima domanda di quella nostra che carata serale io non posso fare altro che ricordarvi di seguire il nostro seguirci qui sul nostro canale youtube iscrivervi mettere like commentare condividere se volete e e continuare a visualizzare i nostri contenuti su youtube di seguire il nostro podcast su spotify apple podcast e google podcast podcast appunto che esce settimanalmente io vi rinnovo l'invito alla settimana prossima per una nuova puntata di di questo nostro video di questo nostro video io ringrazio Dario per essere venuto mio ospite ciao grazie a tutti e forza azzurri per stasera esatto e forza azzurri per stasera e se vi va scrivete qua sotto se vinceremo risultato esatto fate quello che volete l'importante è che noi che ci seguiate e ci vediamo la settimana prossima ciao grazie a tutti